I programmi della cooperativa non si fermano qui, dopo il corso di grafica e in cantiere qualche altra iniziativa. La prossima che inizierà il 2-3 luglio, fino alla fine della settimana, cioè fino al 7, è l'incontro per i giovani autori, incontro sulla canzone d'autore in effetti. Quindi parteciperà come sempre il patrocinio del Club Tenco e questa volta parteciperà direttamente il vicepresidente Enrico De Angelis. Come cantautore quest'anno avremo Eugenio Bennato e Bertelli, Gualtiero Bertelli. Come si svilupperà questa settimana di studio? Diciamo in due parole, ci sarà una parte della mattinata per esempio che sarà dedicata dalle interventi monografici, diciamo su degli argomenti particolari sulla canzone d'autore, cioè che vanno dalla confezione alla vendita, quindi tutto quello che è il mondo della canzone e invece nel pomeriggio si ascolteranno i ragazzi, cioè si ascolteranno i giovani autori, l'equipe che ascolterà poi ovviamente è interessata anche agli sviluppi perché noi ci auguriamo che qualcuno possa poi andare al Tenco, alla rassegna Tenco di quest'anno.